eccoci you are live ciao Yuri ciao come stai? bene dai non ci si lamenta anche in questo pervio d'accio qua tutto bene grazie tutto ok bene bene grazie bene sono contento di come ti stavo spiegando prima di questa intervista perché sto cercando in questo periodo qua un po' di valorizzare il territorio con nel mio campo diciamo nel mio piccolo campo sportivo sto scusate eccoci qua la seconda voce e valorizzarlo quindi nel modo in cui posso farlo io lavoro nello sport e quindi cercando di intervistare un po' persone che fanno cose diverse perché io tratto tanto sulla corsa ma ho voluto spaziare un po' dallo sci di fondo allo sci alpinismo alla bici ma comunque sono tutti questi sport di fatica che accomunano questi personaggi come Yuri che abbiamo stasera che personaggi allora come si può dire che fanno sport di fatica spesso individuali spesso individuali e di Bergamo secondo me è un mix è un bel mix sono persone come si può dire belle e sane che magari loro non lo sanno non se ne accorgono ma secondo me trasmettono tanto e sono questi messaggi positivi che che ci servono tanto soprattutto in in questo periodo soprattutto anche ai giovani quindi sono contento di avere un ragazzo come te che sinceramente avevo seguito qualcosa ma non conoscevo non conoscevo benissimo mi aveva raccontato qualcosa penso il il Gabriele un tuo grandissimo fan lo salutiamo perché vedrà la replica purtroppo al lavoro magari si è imboscato al lavoro e ci sta guardando in diretta e quindi bene sono contento di verti qua Yuri e ti chiedo una cosa intanto che arrivano un po' di collegamenti per chi non lo sa ti spiegarci un po' chi sei cosa fai e un po' come è nata la tua passione per la bici e e dici tu un po' un po' gli inizi va bene dai allora io sono Yuri Giupponi ho 29 anni sono di Zogno come tutti sanno non sono un ciclista professionista anzi diciamo che sono un operaio e mi piace diciamo il mio hobby andare in bicicletta vado in bici circa da quando ho 12 anni alla fine perché ho iniziato ad andare in bici probabilmente perché mio papà è sempre andato al lavoro in bici allora ho preso passione anche perché col calcio non era il mio forte anzi era il vero rubrocco e all'inizio ho iniziato a nuotare infatti anche a nuotare diciamo che me la cavo nuoto abbastanza bene poi tutto in un tratto mi ricordo ancora che era prima di una lezione di nuoto con mio papà siamo andati a vedere due bici perché anche lui voleva prendere una bici più recente di corsa l'abbiamo comprata era circa settembre ottobre dopo un mese e mezzo siamo andati a fare il primo San Marco che mi ricordo ancora che c'era una una nebbia che non vedevamo neanche il cartello però diciamo che ero felice anche se a dire il vero le prime volte era lui che mi spingeva ad andare in salita perché io volevo sempre ad esempio andare a Piazza Brembana e tornare ma di salita non ne volevo mai non ne volevo sapere poi pian pianino mi sono appassionato e alla fine ho capito che la bici per me è anche soprattutto fatica diciamo che le salite mi danno più soddisfazione che ad esempio fare lunghi tratti in pianura anche se visto che il mio motto che mi piace è sempre partire ove il possibile in bici da casa spesso devo fare molti pezzi pianeggianti e durante ho iniziato così poi mio papà dopo un po' non è più potuto starmi dietro anche perché è il suo limite sono sempre stati 100-120 km dopo mi fa adesso sei giovane pedala te che io ti aspetto a casa ho iniziato a fare i giri lunghi sui 150 poi 200 km poi con un mio amico che si chiama Jacopo e l'ho incontrato una volta per caso dopo che anche usciva da un periodo non molto felice abbiamo iniziato così per gioco gli ho detto andiamo a fare il passo della Cisa e tornare ce l'abbiamo fatta diciamo che lui dei due era più la mente diciamo che lui è quello che progettava in maniera minuziosa e dettagliata ad esempio le fontane lungo il percorso tutte le svolte anzi ad esempio le 3 di mattina di notte mi diceva eh 300 metri c'è la casa gialla gira a destra io dicevo ma come fa sto qua a dirmi che c'è la casa gialla perché lui l'aveva studiato in stream su google maps io invece da quello aspetto lì diciamo che ero un po' più il motore non che ero più ignorante però diciamo che dal punto di vista fisico era allenato però non mi è mai piaciuto e forse non sono mai neanche stato in grado di preparare così minuziosamente per per arrivare a un obiettivo nonostante una cosa determinante nel 2013 proprio con lui ho deciso di andare a Pisa siamo partiti da Zogno e siamo arrivati a Pisa a 350 km siamo tornati in treno perché l'obiettivo mio era di partire da mezzanotte da Zogno e ritornare entro mezzanotte a casa tornando in treno è stato bello e diciamo che è stato quasi peggio il treno perché abbiamo impiegato 8-9 ore perché con la bici non si può se non è la posi che sa che tornare con i regionali l'anno dopo ho deciso assieme abbiamo deciso di raggiungere la capitale Roma siamo partiti da Zogno sempre nella stessa modalità sì diciamo che eravamo abbastanza l'arrebaggio in quanto avevamo una borsetta davanti e lui a dire il vero aveva studiato la strada beniziosamente ma aveva dato tutto il plico di carte che erano state che saranno state 60 pagine io però mi raccomando studiare se succede qualcosa se no sei spazzato di qua di là io gli ho detto vai tranquillo che le studio ma a dire il vero non ce ne ho diciamo che non le ho guardate molto bene purtroppo lui dopo Siena ha iniziato a soffrire e malgrado le varie incitamenti e tutto ad acqua pendente mi ricordo come se fosse adesso a 120 km da Roma lui si è dovuto fermare perché la situazione stava degenerando diciamo che per lui era pericolosa circa le due e mezza la mattina si è fermato sotto un diluvio diciamo si è fermato al riparo sotto una pensilina e diciamo che purtroppo ha dovuto concludere lì la sua avventura perché era molto pericoloso io mi ricordo ancora che c'era un diluvio della Madonna alle tre e mezza però di mattina dopo mezz'ora che ho aspettato sono dovuto partire in quanto alle nove avevo già il treno prenotato per ritornare ho preso il mio plico di carta che mi era arrestato ho dittato che le prime 50 pagine le ultime 10 diciamo che pioveva talmente tanto che non potevo leggerle e intanto pedalare allora ho avuto l'idea che siccome non sono completamente inconsciente anche se lo sembro ho tirato fuori il tom tom della macchina però diciamo che le strade della macchina non sono come quelle della bici però miracolosamente seguivo il cartello di Roma e sotto il diluvio sono arrivato a Roma in piazza San Pietro poi neanche a farlo apposta sono andato in piazza di Spagna perché volevo vedere successivamente la fontana di Trevi sono scivolato e mi si è rotto il cambio posteriore della bici infatti sono arrivato in stazione senza cioè con la bici in mano e in caso di camminare con le tacchette tre chilometri sotto l'acqua non è il massimo mi ricordo ancora che il biglietto dal treno non si vedeva più perché era sporco di grasso e però diciamo che hanno avuto piazza e mi hanno fatto salire sul treno e anche lì è stato un calvario perché a Roma Pisa Pisa ho fatto due ore di di sosta e dopo sono tornato a Milano Milano-Bergamo e sono arrivato a casa nel 2015 con Andrea Fustinoni che è colui che ha organizzato e mi ha permesso di fare le altre imprese e mio amico fin dalla nascita abbiamo ho deciso che il mio sogno era partire dalla Torre Eiffel di Parigi perché sono sempre stato appassionato del Tour de France e dicevo bisogna andare fuori dall'Italia allora il mio obiettivo era la Francia ovviamente però non potevo dire a mia mamma cioè potevo anche farlo ma non so se adesso ero qua parto da Parigi arrivo non stop a casa toglie a te cosa ne pensi solo mi diceva beh non penso che sia il massimo allora grazie Andrea che ha trovato il mio sponsor abbiamo trovato un camper siamo venuti siamo andati là in camper tutti assieme poi io sono tornato in bici seguito da Andrea altri compagni che mi hanno accompagnato nell'impresa è stata dura 932 chilometri e ho impiegato 43 ore non stop e abbiamo affrontato come salita il Gran San Bernardo anche perché tutte le mie imprese come mi ha sempre insegnato diciamo anche mio papà ho sempre voluto mettere la salita scusa la salita più alta che potevo percorrere lungo quel percorso e quindi siamo arrivati su San Bernardo a 2500 metri a Parigi ho capito che che ho fatto qualcosa di diciamo di grande per le mie potenzialità però bisognava crescere sia dal punto di vista mio fisico e anche mentale come preparare la situazione che anche dal punto di vista come team perché eravamo già ben strutturati per essere un team amatoriale però serviva qualcuno che se ne intendeva sull'alimentazione dal punto di vista anche come massaggi che alla fine ne ho scoperto che sono fondamentali anche perché a Parigi per un mio errore che ho calcolato ho avuto i crampi gli ultimi 90 chilometri e diciamo che arrivare a Bergamo è stata davvero dura cioè ce l'ho fatta ma tramite forse alla testa che ho la motivazione perché se era per le gambe diciamo che non sarebbe stata così così non si sarebbe svolta nella maniera che sia conclusa l'impresa nel 2016 allora sempre più distanti siccome ero già stato con dei miei amici in vacanza che mi era piaciuto a Barcellona ho detto eh Andrea cosa ne pensi se torniamo da Barcellona lui mi fa aspetta un attimo che chiamo mi informo su gli sponsor mi chiama mi fa ci sono gli sponsor adesso sono a cavoli tuoi ah grazie ma alleno Barcellona abbiamo fatto 1120 km in 51 ore come tutte le nostre diciamo imprese c'è sempre stato che il giorno prima saltavano fuori dai casini a Barcellona si chiamano c'è il camper che dovete prendere che ha fuso il motore come ha fuso il motore eh signore ha messo dentro la benzina al posto del gasolio non va al camper non va al camper noi che c'eravamo portati davanti visto che il camper andare a Parigi per me stare 15 ore o 20 sul camper era stato massacrante visto che non siamo completamente stupidi ho detto io Palmiro che è un signore che mi accompagna in alcuni pezzi che aveva 62 anni e il massaggiatore siamo andati in treno il problema è che noi siamo partiti la mattina alle 9 e siamo arrivati a Barcellona verso le 11 e mezzogiorno il camper alle 9 di mattina al posto di partire il giorno prima siccome ci erano stati i casini del motore è partito come me alle 9 di mattina da qua quindi gli hanno fatto un miracolo hanno fatto 1200 chilometri in 12 ore e ci siamo trovati per la notte diciamo il giorno dopo sono partito per venire a casa da Barcellona quella rispetto a Parigi diciamo che lì sono cresciuto molto dal punto di vista fisico ma soprattutto anche da quello mentale diciamo che ero convinto io come il team di portarla a termine anche perché io ho sempre voluto al mio fianco della gente che oltre ad essere cioè diciamo è una vacanza è una vacanza ma non è proprio una vacanza cioè alla fine stiamo anche stiamo anche non rischiando però comunque c'è di mezzo anche la mia salute anche degli altri perché guidare dietro a uno che pedala per 20-30 ore 40 ore non è così semplice anche darsi cambia la guida tutto può sembrare banale ma anche passarmi una borraccia del 2 di mattina quando hai sonno può uscire diciamo il patatrack quindi sono cose che bisogna avere una determinata attenzione e lì a Barcellona infatti per me la scelta di portare dietro Demetrio Ricci che è stato il passaggiatore e anche che mi diceva ad esempio consigli su cosa mangiare così è stata determinante poi abbiamo avuto anche che ci ha tenuto molto Giovanni Ferrari che è un mio amico che diciamo che è una persona che non parla molto però mi sono sempre trovato perché è disponibile e non parla ma quando c'è da lavorare è il primo che lavora e so cosa ha le sue qualità e lì l'abbiamo portato perché lui è in gamba come fotografo e soprattutto anche come grafico diciamo che ha montato i video che oltre diciamo a fare piacere di sponsor e fanno anche piacere soprattutto a me perché è un indomani di guarda e dico ah cavolo mi ricordo meglio nel 2017 invece ero qua a casa mi ricordo ancora e dicevo cavolo ma più di 1120 chilometri 51 ore cosa faccio cosa faccio all'inizio pensavo non so più cosa inventarmi o vado a Roma e ritorno visto che ero già andato nel 2014 mi ho detto andare e tornare dalla stessa strada non mi entusiasma allora con mio papà che ero lì sul terrazzo mi fa cavolo ma tu oltre ad andare in bici sicuramente secondo lui e anche secondo il mio amico Andrea sono più bravo a nuotare che andare in bici ha una caratteristica che pochi ciclisti amatoriali hanno che sanno anche nuotare allora mi fa per me il mio sogno parlava su di lui era fare l'Etna dalla Sicilia a casa ma a dire il vero non a casa alla montagna più alta qua da noi che allo stendo da loro ho pensato diciamo che ci siamo messi a dire il vero si è messo lui a scrivere tutti i paesi perché non gioca diciamo che non mi piace molto e sono uscito come 130 140 paesi mi passano 1600 chilometri ricordati che questa è dura o te gli ho detto vabbè diciamo che il nuoto è un po' che non lo facevo ma i 4 chilometri dallo stretto forse non mi spaventavano così tanto ho detto e ho detto boh questa mi ispira chiamo Andrea anche perché dal punto di vista economico non era un'impresa come un'altra serviva tutta un'altra attrezzatura abbiamo fatto un'ammiraglia con tutti gli adesivi avevamo un camper diciamo che eravamo un vero e proprio team quasi a livello amatoriale ma raggiungevamo non un team professionale ma quasi diciamo gli ho detto e lui subito mi fa domani sento di qua il direttore per lo sponsor e dopo due giorni deciso mi fa c'è lo sponsor mi devo allenare ancora e anche questa è stata questa qua è stata sicuramente la mia più grande impresa perché compiere tutta l'Italia ancora adesso se ci penso diciamo che mi viene ancora i brividi a pensarci è stato davvero duro perché davvero cioè sinceramente ce l'ho sempre pensata di portarla a termine sia da quando sono partito a quando ormai ero ai pressi dallo stelto e così sono sicuro che è sempre stata per il mio figlio anche perché io ho sempre detto che prima di gente nel senso che è lì per un compito vogliono che siano determinati e finiti perché prima di partire che diciamo a portarla a termine è meglio tra virgolette che se ne stia a casa guardarla forse dal telefono se riesco a portarla a termine perché lì prima cosa ci vuole per me la convinzione perché tutto parte dalla mente poi si hanno dei momenti di difficoltà e si spera e ci crede e si crede assieme di superarli infatti se ci penso ancora adesso cioè siamo puntiti alle 4 dal dal rifugio Sapienza era tutto calcolato perché alle 8 e mezza io dovevo essere a Messina per fare la traversata dello stretto siamo arrivati lì un quarto d'ora prima perfetti neanche a farlo apposta gli ultimi 50 km però prima di arrivare a Messina diluvio universale in Sicilia non è famosa per le piogge lì pioveva come Dio la mandava per fortuna però ci hanno permesso lo stesso di fare lo stretto e dire però anche loro avevano paura perché non si sa se possono rimandarlo se lo rimandavano per noi era un casino perché avevamo già di là il camper i ragazzi col camper avevano dormito di là erano pronti a aspettarmi e io ero seguito da Andrea il massaggiatore con con l'ammiraglia anche per il massaggiatore anche lui mi fa se tu lo fai a nuoto anche io lo faccio a nuoto io però non muoto da otto anni e voglio nuotare la prima volta lì con te che così ti tengo a in realtà l'ha fatto secondo me perché io con lui mi trovo molto anche siccome sa che comunque sono forte mentalmente ma ho anche ad esempio mi posso lasciare prendere trasportare anche lui era a nuoto diciamo nella via batteria in quanto uno stretto di Messina si fa con una barca che ti segue ma in tre alla volta e diciamo che così mi regolava la velocità perché aveva paura che se ero da solo come un cavallo imbizzarrito partiva arrivavo di là e dopo mancavano ancora 1500 km però vabbè è andata bene e da lì però ho capito che era dura perché la Calabria mio papà mi ha sempre detto stai attento alla Calabria che c'è salita c'è salita ma c'è salita c'è salita ma io avevo in testa anche le spiagge invece mi ricordo sono salite allucinanti anche 10-12 km di salita che arrivava via 1000 metri un vento della Madonna e sono state 20 ore davvero impegnative l'Incalaria poi l'abbiamo attraversata sulla piana di Sibari abbiamo fatto un pezzo di Costa Ionica poi sono arrivato a Bari una volta arrivato a Bari non è che ero messo bene perché mancava ancora tutta la costa Adriatica però lì diciamo che sono andato bene c'era lo stesso vento le strade però erano abbastanza pianeggianti diciamo che l'umore era alto il momento davvero difficile è stato quando sono arrivato a Cesenatico ci tenevo molto a passare da Cesenatico perché io da bambino sono sempre stato tifoso di Marco Pantani diciamo che probabilmente ho iniziato ad andare a mare le salite proprio per quello perché io mi ricordo proprio quando avevo 10-11 anni nel 98 anche 7 ne avevo che mia mamma doveva chiudere le griglie anche se era estate perché io e mio papà continuavamo a urlare forse anche lei aveva vergogna il condominio in parte ci sentiva da lì probabilmente ho preso anche la passione per le salite una volta arrivati a Cesenatico però è stata davvero una cosa dura perché mi sono accorto che io ero davvero stanco molto probabilmente ero più stanco del previsto mentalmente ma soprattutto fisicamente cioè avevo 1150 km alle spalle avevo fatto due microsonni quindi avevo dormito circa un'ora e mezza avevo già però sulle spalle quasi 60 ore di pedalate mi è stata davvero dura perché io mi accorgevo che ero più nervoso e più agitato del solito anche il team c'è da dire che era stanco cioè sempre sul pezzo però iniziavano ovviamente ad essere stanchi perché anche Andrea che è lui che organizza tutto ovviamente anche la pressione diciamo di sembra ma ci sono molte cose durante un'impresa da tenere in considerazione e non è così semplice lì il team era abbastanza stanco io diciamo che a vedermi così sono simpatico e tutto anche nelle imprese però diciamo che ci sono quei momenti che rischi che ti salta la testa perché la stanchezza è alta rischi che ti saltano i nervi c'è stato un momento infatti io mi dicevano tutti riposa un attimo riposo un attimo ma non riuscivo a riposare perché mi dicevo ho ancora 30 ore io devo arrivare sullo stelvio ancora 30 ore devo arrivare sullo stelvio e lì però diciamo che siamo ripartiti più carichi di prima è stata dura ma pian pianino siamo andati avanti e poi sono arrivato io ero convinto che una volta che arrivavo nelle zone di Brescia la portavo a casa diciamo perché non perché è finita che perché lo stelvio alla fine e anche prima la prima che non è una salita dalle pendenze insidiose perché è un 4% 5% medio però con i suoi 12 km dopo 1450 km nelle gambe diciamo che si fa sentire che non dormi però è andata bene abbiamo fatto il lago di Seo sulla prica diciamo che sono salito bene poi siamo scesi mi ricordo ancora che ci siamo fermati che avevamo un appuntamento con il grosio ciclismo che saluto come sempre che sono disponibili dove ci siamo rifocillati Demetrio mi ha fatto un massaggio un quarto d'ora 20 minuti e dopo via attraverso lo stelvio mi ricordo ancora che lo stelvio l'ho affrontato davvero probabilmente cioè davvero mi sembrava come non per per essere esaltato cioè ero stanco però davvero sullo stelvio mi sembra come se ero appena partito ma è tutto mi sa un ingannare la mente perché è ovvio che è 1500 km nelle spalle però lì mi sentivo davvero bene infatti tutti mi incitavano ma è andata davvero bene una volta anche arrivato in cima gli ultimi 3 km che sono i più duri diciamo che però gli ho compiuto in maniera abbastanza bene sono arrivato in cima davvero sono esploso di felicità e ho capito che avevo fatto davvero quello che avevo in testa soprattutto ho visto il team davvero strategico emozionato e diciamo che come dico sempre cioè tutti possono dire sì l'impresa l'ha fatta Yuri Giupponi però non è così perché come ho sempre detto cioè io mi alleno andavo a pedalare anche di notte varie cose però c'è Andrea Fustinoni Alessandro Gotti e tengo a citarli tutti Giovanni Ferrari Demetrio Nello abbiamo avuto anche l'Angelo Gualdi che è un lui ha seguito 30 giri d'Italia come autista e suo e suo nipote che davvero si sono fatti lasciatemi dire il culo per vari anni anche perché seguire tutto non è così semplice cioè dalle divise alla macchina al camper tutte le cose sono cose complicate e diciamo che Andrea su questo ci ha tenuto molto a sgravarmi questo peso cioè lui mi diceva tu allenati che al resto ci penso io senza di lui una cosa così non era possibile infatti per questo ringrazio sempre il mio team e diciamo che se un indomani perché mai dire mai nella vita facessi qualcosa su di loro io so che posso contarci e ci conto davvero davvero molto cioè nonostante non sono professionisti sono anche per me amici e la cosa secondo me è fondamentale anche perché dal punto di vista mentale mi aiuta davvero molto tutte queste tutti questi giri abbiamo fatto un qualche migliaio di chilometri in pochi minuti Yuri come le sceglievi a parte quella che ci hai detto di tuo papà che ha voluto ti ha dato l'idea di unire bici e nuoto cioè Roma Parigi le sceglievi per la lunghezza per allungare sempre un po' di più mettere un po' di dislivello o avevi un rapporto particolare con Barcellona con Roma con Parigi no allora sinceramente ti dico la verità tutto è iniziato te l'ho detto che ero là a fare la spesa ho incontrato Jacopo che era in un momento come me diciamo abbastanza non dei più positivi della vita e ho deciso andiamo a fare assieme questa esperienza amici sono partiti siamo andati a fare il passo il passo della Cisa successivamente abbiamo fatto anche il Gabbia partendo da casa che sono 400 km Pisa sinceramente non so forse perché è nata Pisa perché adesso mi ricordo perché avevamo fatti i giri sui 300 km e abbiamo detto Pisa sono 350 per me ce la possiamo fare poi io da bambino avevo sempre visto sta cavolo di torre di Pisa pendente vediamo quanto pende a raggiungerla in bici 60 metto ubriaco che pende di Pisa e allora abbiamo raggiunto Pisa Roma invece l'ho voluta io a tutti i costi sempre con Jacopo perché ci teniamo a fare con lui perché è la capitale d'Italia e per me Roma ogni italiano se ha la possibilità deve vederla almeno una volta nella vita e io essendo appassionato della bici pensavo che cioè il mio sogno diciamo era arrivarci in bici proprio a Roma poi era un periodo che per lavoro ero stato già molte volte a Roma e quindi dicevo cavolo ma è neanche un'ora di aereo ma riuscirò a arrivarci in bici allora dopo ci siamo fissati di raggiungerla a bici Parigi te l'ho detto fare il tour de France soprattutto perché secondo me quello che mi ha sempre dato anche lo stimolo nelle imprese è che a essere sincero già dopo che ero andato a Roma c'erano molti miei amici che mi hanno fatto la festa a casa e anzi le cose così spontanee mi sono sempre piaciute e valgono per me più i gesti di mille parole o mille scritte ad esempio su social e davvero lì ho capito che molte persone c'erano davvero apprezzavano quello che facevano forse anche per il mio modo spontaneo forse per il mio modo così all'apparenza di non calcolare le robe ma così diciamo dal punto di vista più genuino e allora abbiamo fatto Parigi Barcellona davvero l'ho fatta perché ero stato con dei miei amici due o tre anni prima a Barcellona ma davvero mi ha colpito tantissimo come città perché è Parguele tutto è davvero spettacolare poi nella storia avevo studiato che Gimondi aveva avuto il mondiale a Monguia loro ho detto partiremo da Monguia poi una volta arrivato quando ero con i miei amici che eravamo nelle zone di Barcelonetta mi ricordo che c'era Cristoforo Colombo una statua sul porto che indicava la via e gli ho detto boh parliamo che Indis di Bergamo dai davvero cioè sembra che scherzo però sono nate davvero così cioè non sono nate con chissà obiettivo certo aumentare la distanza perché infatti è sempre progressivo e io ho sempre cioè ho sempre creduto in quello che facevo e è per questo diciamo che per me ce l'ho fatta anche a portarle a termine e la preparazione tu io avrei detto che dopo Parigi giusto hai cambiato cioè hai sistemato un po' ma ti ti sei fatto seguire hai fatto hai chiesto un po' hai come è successo anche con la storia del fisioterapista con i massaggi così da dove sono arrivati queste allora ti spiego partiti da Parigi nel 2015 diciamo che sia io che il mio team diciamo che eravamo carichi io avevo mi dicevano tutti una grande forza mentale fisica che andava bene col fatto che a detta di tanti ero completamente pazzo e quindi secondo loro non sentivo la fatica e anche io diciamo che mi ero un po' fatto prendere da questa cosa e dicevo oh ma prima o poi salterò anche io prima o poi salterò anche io e così va bene siamo partiti da Parigi Parigi è stata davvero bellissima anche perché è stata la mia vera prima non considerando Roma con un team che mi seguiva ma è stata davvero dura sotto ogni punto di vista sono arrivato là a Parigi e mi ricordo c'erano 36 gradi cioè già un caldo africano non diciamo che mi aspettavo di trovare a Parigi e lì è stato dura perché la notte prima di partire mi ricordo come fosse adesso non ho chiuso occhi sinceramente un po' sarà anche per l'agitazione non lo nego un po' per il caldo un po' perché per varie cose non ero abituato a avere un team non ero abituato a avere gli sponsor al fianco e tutto però alla fine diciamo che è andata bene lì però ho capito un grande un grande mio difetto che diciamo dal punto di vista fisico ero io mi sentivo pronto avevo già fatto giri da 400 km però non ne fai mai per preparare un'impresa da 900 900 perché perché se no l'avresti già fatto prima quando ho sempre pensato anche io se vado a fare i giri da solo da 900 allora non mi serve l'attitudine però lì gli ultimi 150 km davvero ho accusato dei dolori e le gambe e lì ho sbagliato probabilmente anche io che dovevo fermarmi e comunicarlo anche al team nonostante io però mi fidavo completamente dal mio team diciamo che probabilmente preso dal fatto che non lo so non volevo fargli capire che potevo avere delle debolezze tutto ho continuato mi ricordo come se fosse adesso che a 80 km ero nelle zone di Milano mi mancavano 80 km mi è venuto non lo so neanche sinceramente dal punto di vista medico che cos'è perché non sono un medico mi è venuto un penso come uno strappo un indurimento di un tendine e lì davvero è stato massacrante cioè mi ricordo Andrea e Alessandro Gotti che ci siamo mi sono steso un attimo sulla strada davvero come un vagabundo mi hanno fatto mi hanno decontratturato un po' e poi sono ripartito però mi ricordo davvero che sui cavalcavia cioè io alla fine pedalavo con la gamba a destra e per vari mesi diciamo che la gamba sinistra secondo me è sempre diciamo che è diventata il mio tallone da chino cioè non ho paura a dirlo come ho sentito anche i vari fisioterapisti che alla fine il corpo secondo anche dal mio punto di vista come un anello prima o poi l'anello cede dal lato più debole e sicuramente su di me era quello quindi successivamente ho lavorato anche per potenziare quelli che erano i miei punti deboli e lì è stato davvero per me determinante Demetrio Ricci che era il massaggiatore e lui cioè ogni 10-12 ore facevamo mi facevo un quarto d'ora 20 minuti di massaggi e anche dal punto di vista dell'alimentazione era era un'altra cosa cioè era tutto calcolato perché comunque avevo l'incos ora all'infale che seguiva con integratori barrette e tutto però aveva un piano calcolato ogni mezz'ora cosa mangiare ogni mezz'ora bevi questa borraccia bevi l'altra ed era una cosa più dettagliata anche se ovviamente ogni 7-8 ore mangiavo comunque la pasta e mangiavo un panino col tacchino col tonno perché mi diceva che comunque anche per la mente serviva anche mangiare qualcosa che ti piace non puoi notare solo diciamo barrette per 80 ore assolutamente sì e lì secondo me quello è stato anche il salto di qualità anche perché oltre che dal punto di vista come massaggiatore mi sono trovato subito con lui in sintonia cioè mio papà nelle imprese le ha sempre seguite da casa e mi ha sempre sentito gli ultimi 200 chilometri ma lì sul camper c'era anche gente di esperienza come ad esempio il Demetrio come il Nello che comunque hanno i loro ben portati ma 60 anni che mi sanno anche fare a volte da padre e diciamo un po' gestire la situazione quando capiscono che sto diventando più imprevedibile del solito ottimo qui arriva un suggerimento per una tua prossima impresa da Marco Gotti prossima impresa Istanbul per finale certo sta bene non ci sa mai non si sa mai Gotti meglio andare a trovare la Giorgina però Cristiano Ronaldo no comunque davvero cioè dopo molti mi chiedono ma dopo l'Etna Stelvio ho capito davvero che non è facile organizzare un'altra impresa a dire il vero qualcosa quest'anno avevamo in Serbo io e Andrea non pensate nulla di eccezionale da centore così una cosa per valorizzare il nostro territorio nella Lombardia però vabbè quella lì resta un nostro progetto che vedremo dopo davvero dopo l'Etna Stelvio ho capito che comunque io cioè non sono un ciclista io sono uno che si diverte a fare ciclismo per raggiungere secondo me per alzare sempre l'asticella come abbiamo fatto dopo l'Etna Stelvio lì davvero cioè serve seguire vari piani sotto dal punto di vista cioè devi essere un atleta io non mi reso un atleta cioè io sono una persona che fa una cosa che mi piace si diverte a farla ma forse non sono neanche predisposto non è che non sono disposto forse non mi interessa realmente fare davvero alcuni sacrifici come fa un professionista perché durante l'anno io mangio normale anzi diciamo che vivo quasi a pizza per chi mi conosce non è diciamo un alimento molto molto per i professionisti però io sono felice di questo infatti io davvero per essere un amatore sono davvero contento di quello che ho fatto anche perché l'ho fatto diciamo nel mio stile cioè come mi ero prefissato cioè senza megatecnologia o robe mostruose ma così cioè diciamo come mi è piaciuto in maniera genuina e abbastanza spontanea l'anno scorso non è un'impresa ma ha seguito dei miei genitori perché mio papà in una almeno mi doveva seguire siamo partiti io mio papà e mia mamma avevo in testa di fare il doppio San Marco perché San Marco è una salita qua da noi che mi è sempre piaciuta da quando ero bambino e poi il doppio step lì davvero è stato diciamo duro ce l'ho portata a termine in 24 ore ma diciamo che mia mamma se la ricorderà finché greppa anche perché stare in macchina 24 ore ha capito come è come è come è infatti mi diceva ma come hanno fatto quei poveri ragazzi a stare 90 ore da letto allo step ecco alcuni dovrebbero provare per capirlo perché è davvero impegnativo mio papà nonostante non ha dormito tutta notte diciamo che quando siamo arrivati insieme al primo step io ho scaricato le fisi della macchina abbiamo lasciato lì mia mamma e assieme siamo scesi dal versante della Svizzera e abbiamo attaccato lo stelvio da Prato allo stelvio lì davvero per me è stato molto emozionante anche perché comunque tuo papà che non sta dormendo da 15 ore viene a fare lo stelvio da Prato allo stelvio che chissà qualcosa di bici può dire quello che vuole ma da Bormia una salita secondo me è da Davide sono 24 km però prima degli ultimi 4 km duri ci sono 3 km che alla fine è quasi pianeggiante e se non stai facendo una crona in salita riposi ti rimpiate poi la porti a casa da Prato allo stelvio è davvero massacrante perché ci sono gli ultimi 1200 metri di dislivello che tu ti vedi tutti questi tornanti ma a me non mi è mai capitato di vedere così tanti tornanti e dire ma sono sempre in piedi questi tornanti lì sono in piedi anche nel tornante 10% non so come è possibile ma è possibile assieme però siamo arrivati anche abbastanza bene lui mi ricordo l'ultimo chilometro ha avuto i crampi e mole mia mole mia siamo arrivati in cima nonostante ha dovuto fare i miracoli perché è arrivato in cima io ho mangiato il mio piatto di pasta lui però mi doveva seguire in macchina però diciamo che con i crampi è che a guidare a cambiare le marce non è stato il maschio a Bormio è andato verso mia sorella che lavora lì Vigno a trovarla e io l'ho continuata da solo poi mi hanno raggiunto a Morvegno per l'ultimo San Marco e ho fatto San Marco finale e lì davvero ho visto tutti i miei due genitori stanchi però erano felici cioè questo non ha a che fare assolutamente con le altre imprese con il team però diciamo che secondo me anche questa valore perché mi è piaciuto avere il mio fianco e niente o come l'anno prima che ero andato a trovare mia sorella di Vigno facendo tutti i passi ho fatto San Marco poi ho fatto il sono andato a fare il Maloia San Moritz dopo siamo ho fatto il Fosca ho fatto scusa la Forcola sono sceso l'Ivigno ho salutato mia sorella e poi abbiamo ho fatto il Foscagno sceso Grosio Mortirolo e dopo ho fatto San Marco da Morvenio però lì sicuramente da sola è stato il giro più bello che ho mai fatto perché sono 420 chilometri 10.200 metri di dislivello ma soprattutto so davvero cosa vuol dire perché ho pedalato 24 ore 21 ore sotto l'acqua cioè non pensavo davvero che potevo tenere così il freddo mi ricordo ancora che lì davvero cos'anno di poi sono stato incosciente perché è un conto raccontarle adesso ma nelle discese di Divigno quando ti trovi due gradi e devi scendere e fai fatica a tenere le curve non è un non è diciamo un gioco infatti quando sono arrivato a Divigno c'erano soprattutto stranieri che mi facevano le foto perché ero lì che sbarbellavo e ho capito che probabilmente non ero davvero normale quindi questo è il commento di Daniele è grande ciao Daniele ti saluto è il figlio del mio dottore del mio paese che per sua fortuna è potuto andare in pensione diciamo che è sempre stato il mio tifoso da da una da quando non avevano ancora fatto Zogno Pisa diciamo almeno da dieci anni ciao Daniele grazie grande allora sì comunque ti confermo io l'ho fatto per la prima volta quest'anno lo stelbe da prato in moto con lo scooter per seguire appunto il Gabriele quando stava facendo la gara e ci siamo dovuti fermare spesso con la moto perché la moto era in era in sofferenza quindi capisco quando ci tornanti erano veramente duri perché era una salita incredibile io non l'avevo mai fatto da fratto lo stelvio ma davvero complimenti a tuo papà veramente grazie assolutamente quindi diciamo nelle ultime imprese c'è stata anche quindi questa integrazione che ti ha supportato sia alimentare c'è stato quindi un aumento delle difficoltà di tutto che però è dovuto l'avete diciamo ricompensato con un aumento della qualità e del livello del team come dicevi tu siete amatoriali ma le ultime imprese avete dovuto comunque quasi rendervi un team professionale per far fronte comunque a tutte queste difficoltà cioè come dici tu tu hai dovuto pedalare hai fatto una fatica delle cose incredibili ma la squadra che c'è dietro fa una fatica una fatica veramente allucinante penso che sei sei stato fortunato te a trovare anche una squadra una squadra così veramente penso eccezionale sicuramente cioè come ho sempre detto grazie ad Andrea perché è nata grazie a lui comunque anche le mie imprese perché dopo Donio Roma se non c'era lui che trovava gli sponsor sta cosa qua probabilmente non avrei fatto niente anche perché un conto a parlare ti dicono bravo bravo ma poi chi è dentro nel giro sa che trovare gli sponsor non è così semplice sì sembra tutto semplice ma dopo vedi quando provi a cercarli che non è così facile però certo cioè il team te l'ho detto è davvero fondamentale ogni persona è lì è lì per un obiettivo e deve portare a termine quello c'è anche ad esempio dell'Etna Stelvio rispetto alle altre volte l'avevo già fatto a Barcellona però lì io sono partito in aere assieme sempre a Demetrio e Palmiero che mi ha seguito dei pezzi in bici sono stato là una notte ero in camera diciamo da solo nel rifugio Sapienza perché comunque abbiamo capito che è lì il riposo è fondamentale perché già per l'agitazione già per mille problemi non dormi non dormi diciamo se in più magari sembra una cosa banale perché siamo un team è tutto ma è in stanza uno che russa o per sfortuna quella sera al mal di pancia o qualcosa sono cose che alla fine vanno a incidere in maniera esponenziale cioè dopo che non dormi da 50 ore 60 ore una cosa del genere se parti già stanco diciamo che è una cosa è troppo lenta e infatti grazie ad Andrea e anche io che ci ho pensato che non avevamo più solo il camper che ci seguiva perché comunque seguire col camper non è semplice perché mi ricordo ancora a uscire da Parigi che alla fine non sono partito precisamente dalla Torre Eiffel ma dall'Arte Triomphe chissà a Parigi dove è l'Arte Triomphe ha idea cosa vuol dire partire in bici perché ci sono rotonde che io nella mia poca diciamo i pochi viaggi che ho visto non avevo mai visto rotonde che sono grandi come centri commerciali e lì avevamo il camper con tutto l'occorrente dietro che ci seguiva però io e Palmiro siamo partiti mi ricordo come fosse adesso con questo con il navigatore sul cellulare scocciato al manubrio e è stato difficile perché mi ricordo ancora passare davanti all'Uvre e tutto noi soprattutto perché non l'avevamo pensata non avevamo quasi avevamo mezza borraccia di acqua perché ovviamente c'è pesa anche la roba dicevamo abbiamo il camper il camper ci ha raggiunto dopo 90 km perché era tutto imbottigliato nella coda loro vedevano dove io ero infatti mi dicevano oh vai piano perché capiamo che non è l'acqua né niente ma noi non siamo un'ambulanza cioè dobbiamo stare in coda e speriamo di raggiungerti il prima possibile Barcellona infatti già lì è stato molto più semplice uscire dalla città rispetto a Parigi era studiato in un altro modo e poi prima diciamo primo pezzo l'ho fatto come Alessandro Gotti aveva studiato perfettamente la zona con meno traffico tanto da districarci bene nel traffico comunque di una metropoli dall'Etna Stelvio invece lì si vede anche secondo me l'intelligenza come team supportati anche certo dal punto di vista economico perché se no non era possibile oltre a avere il camper che era era diciamo guidato da Angelo Gualdi che avendo seguito da 30 anni il giro d'Italia che ha portato anche il nipote cioè è un professionista a tutti gli effetti cioè gli dici mi serve la pasta te dici ma l'acqua bolle così veloce perché la pasta è già pronta cioè dici oh è un mago però gli dici devi andare a fare la spesa c'è il camper fermo dopo 20 km il camper ti supera e dici ma dove è saltato fuori questo qua a fare la spesa la spesa è già fatta è davvero organizzato e grazie che sembra una cosa banale ma al camper ad esempio il camper faceva 100-150 km si fermava caricava preparava le borracce mangiare tutto poi lo dava l'ammiraglia e io sono sempre stato seguito per 1560 km da una macchina pensate anche voi la notte con le quattro frecce questi poveri cristi a guidare a 25 all'ora senza investirmi cioè davvero se ci probabilmente non li ho ringraziati abbastanza durante l'impresa e a volte mi capiscono preso dalla fatica dallo stress e tutto ma rabbio anche con loro perché comunque quando sei lì in un attimo cioè da tranquillo diventi una bestia cioè se capisci che la cosa sta scappando di mano diciamo che non è facile dire le colpe sono solo mie quindi ti attacchi anche a gente che però è lì si sta sbattendo per nulla se non solo per renderti felice e alla fine sta dando tutto a se stesse forse anche di quello che può dare infatti non smetterò mai comunque di ringraziare infatti anche loro adesso a distanza di ormai tre anni dall'Etna Stelvio non ho paura a dirlo mi dicono ancora che anche loro non ci credono nel senso che ce l'abbiamo fatta assieme a portarla a terra mi siete evoluti quindi anche come team dicevi uscire da Parigi uscire da Barcellona quindi diciamo hai girato un po' in bici per un po' di Europa ti chiedo un po' anche in vista di quello che si parlava sempre della pericola delle strade italiane come le strade il pericolo in Spagna in Francia in Italia hai visto differenze di cultura come venite trattati sulla strada voi ciclisti sinceramente cioè sono sincero a dirlo come penso che sono sempre stato diciamo che cioè a me anche da Lettna lo Stelvio che siamo in Italia però per me incidente tanto il fatto che avevo sempre dietro una macchina diciamo che sulla macchina c'era bene il logo di cosa stavamo facendo cioè Lettna Stelvio by no stop il camper aveva sul me diciamo lo sponsor cioè era era chiaro cosa stavo facendo cioè non che ero un disperato che era in mezzo alla strada comunque anche grazie ad Andrea perché se fossi io da solo probabilmente non sono così rispettoso ahimè è una mia pecca del codice della strada però Andrea diciamo che se la riga bianca non devi stare nella riga bianca devi stare sulla bianca sulla bianca ha pienamente ragione anche questo diciamo che i veicoli lo notano cioè infatti io sono sempre stato rispettato cioè anche ad esempio uscito da Parigi e a uscire da da Barcellona diciamo che anzi cioè mi hanno sempre rispettato cioè io non posso dire che la gente mi odiava mi insultavo che certo quando sono arrivato nelle zone qua da noi è chiaro che ci sono i camionisti che non ne faccio una colpa perché magari i poveri Cristi sono pagati i accotti devono fare i viaggi si trovano uno un bici che è seguito da una macchina 25 all'ora capisco che gli dà fastidio ma infatti Andrea e l'altro autista per evitare questo problema massimo ogni chilometro e mezzo due chilometri entravano nelle piazzole così facevano passare si scusavano e alla fine per me se ti comporti con educazione la gente cioè risponde con educazione dopo certo c'è sempre la diciamo la mela marcia ma oh non si può fare niente in tutti in tutti i fronti quello assolutamente dicevi prima che nelle trasterre hai fatto un paio di microsonni idromito in circa un'ora e mezzo nelle altre imprese ti sei mai hai mai riposato proprio hai mai dormito o invece invece no no allora sono sincero Parigi che è stata 43 ore non stop non ho mai chiuso occhio neanche a Barcellona non ho mai chiuso occhio poi vabbè è vero che uno dice Parigi 43 ore Barcellona 51 effettive di bici ma però non è che dopo il timer parto alle 10 di sera alle 9.59 mi sveglio arrivo a casa e alle 7 alle 7.01 dormo infatti alla fine stavo sveglio sempre 10-15 ore in più l'Etna Stelvio invece lì col Demetrio anche in Andrea abbiamo capito dal punto di vista fisico che non si poteva fare 90 ore senza dormire forse era anche possibile non ho paura a dirlo drogandosi ma drogandosi non era una roba che mi interessava anche perché l'impresa perché la faccio perché mi piace perché mi diverto se devo andare a varare con me stesso mi conviene lasciare perdere e andare a fare i giri qua da noi che forse è meglio cioè io la penso così tutto il mio team la pensa così però abbiamo studiato siccome Demetrio comunque anche Andrea a differenza mia leggono varie riviste si informano ad esempio anche prendendo spunto da chi fa l'ultimo tra tre nella corsa perché anche nella corsa c'è gente che comunque fa gare da 340 km quindi stanno in giro un sacco di ore e anche loro fanno riposi ai microsoni perché oltre un tot avevamo calcolato che se continuavo a pedalare ovvero dopo avevamo stipulato le 45-50 ore il calo fisico era esponenziale e piuttosto che ad esempio lato dal punto di vista statistico diminuire la media da 25 km orari magari crollava 15 km orari per le prossime ore sempre a calare conveniva riposare quella mezz'ora per poi ripartire cari anche perché sembra banale ma riposavo io riposavo anche il team che aveva bisogno anche il team cioè io in primis ma anche il team comunque sono lì a fare quello e infatti arrivato dopo 45 ore lì Demetrio mi ha massaggiato ho fatto una pausa diciamo di 50-55 minuti dove ho mangiato la pasta e tutto e penso di aver dormito una 20-25 minuti poi durante diciamo dopo questa pausa facevo 10 ore 11 ore e facevo un microciolo mi ricordo ancora che salivo sulla miraglia l'Andrea mi diceva fai 20 minuti e mi dicevo no non faccio 20 faccio 18 fanne 20 no le faccio 18 e lì era una battaglia perché io mi fido dal team ma capisco che loro magari capiscono più di me quanto sono stanco e quindi io non che non mi fidavo però mi dicevo ma se io adesso mi addormento mi mettono la sveglia dopo 18 minuti mi lascio dormire un'ora a me e quindi ero sempre lì un po' e l'Andrea mi fa cavolo fidati metto la sveglia allora abbiamo concordato che era sui 18 minuti mi ricordo come se fosse adesso così per in due minuti capivo un po' da che parte ero girato e risalivo sulla bici e via si fa quindi ho fatto altri tre microsoni da 18 minuti e poi via si partiva anche quello è stata un'esperienza comunque che cioè secondo me è stata davvero importante per portare a termine questo perché io diciamo che il sonno l'ho sempre sofferto un poco cioè quello infatti tanti mi chiedono come fai a non dormire cioè non lo so non è in realtà che non dormo perché magari una sera vado a letto l'8 di sera la sera dopo però ti sto in giro fino all'8 di mattina cioè sono sempre stato strano diciamo da quel punto di vista infatti anche quando a dieci anni andavo con i miei amici a scout i capi erano davvero disperati perché facevo le prime tre notti senza chiudere occhi e loro non ne potevano più infatti la prima notte stavano lì e mi controllavano dalla seconda notte mi dicevano ascolta che non dormi mai arrangi fai quello che vuoi quando sei stanco dormi però mi ricordo che andavo avanti tre o quattro giorni senza dormire quello lì non so spiegare da cos'è dato cioè sono così diciamo infatti mi ricordo sì e quando pedali di notte Yuri pensi che nel senso col buio così tu non soffri il sonno però quando sei stanco così pensi qualcosa o entri proprio in uno stato mentale sinceramente io quando in bici forse come nei sogni non lo so tutti mi dicono cosa pensi mentre lo stai facendo quando sono lì penso però se non è per mentire o per raccontare stupidate ma una volta che sono arrivato cioè non so cosa stavo realmente pensando cioè penso a tutto e a niente diciamo però certo quando pedalo la notte diciamo che dopo l'etnastelvio pedalare la notte ho diminuito molto anche perché comunque ti accorgi che lì c'è davvero rischio cioè lì è davvero pericoloso cioè a me non ti piace cioè io sono sempre stato comunque abituato a fare i miei giuri lunghi dopo Jacopo da solo anche perché trovare un compagno che pedala assieme te la notte non è che non è semplice può anche essere semplice però io non voglio essere da zaborra nessuno e nessuno cioè deve essere tra virgolette non da zaborra per me ma sentirsi un peso cioè io sono felicissimo di andare anche in bici come ho sempre detto perché tanti non vogliono magari venire con me perché dicono che pedalo troppo ok però penso sempre che con la giusta intelligenza se uno pedala forte può anche pedalare piano se uno pedala piano diciamo che pedalare forte non è così semplice e questa cosa qua per me molti la devono tenere presente anche quando comunque io nel mio piccolo pedalo la notte ti devi accorgere che comunque sei sulla strada e lì un errore può essere fatale cioè una buca ad esempio la notte può essere fatale o anche cose ad esempio imprevedibili come mi ricordo quando questo questo inverno ero già partito da solo io essere sincero perché non mi veniva neanche a mente per attaccare lo stelvio da casa ho fatto il primo San Marco sono sceso che San Marco da Morvenio non c'è davvero un faro a parte Albarello cioè me lo ricordo senti solo animali buio e è bello però sarà che forse ormai ho 30 anni sarà che non ho più 20 però diciamo che un po' di strizza la notte mi viene cioè non so il motivo ma non sono più così tranquillo come quando avevo 20 anni probabilmente non lo so perché probabilmente uno come dice mio papà con gli anni tira i freni io qualcosa non molto ma in testa lo sto mettendo quindi diciamo che sono più riflessivo no? lì capisci che ho fatto il sono sceso a Morvenio arrivo a Grossio e no arrivo nelle zone di Chiuro in Valtellina che dovevo fare lo stelvio alle due la notte io sento la ruota che inizia a fare toc toc ho detto avrò forato vabbè continuo perché non era terra alla fine guardo cos'è ho proprio tagliato in pieno il copertone probabilmente ho preso un sasso senza corgi a mia punta e ho tagliato il copertone erano le due e mezza la mattina tre mi ricordo come fosse ad essere c'erano sette gradi io siccome vado sempre in giro abbastanza svestito non è che avevo chissà che cosa lì mi è andata bene è che l'andrea che oltre te l'ho detto essere quello che mi ha sempre gestito come il team e tutto è sempre stato non ho vergogna a dirlo anche il mio angelo custode era dormire in un albergo nelle zone di Borgo perché la mattina mi avrebbe aspettato per sorpresa a fare lo stelvio alle tre di mattina chiamo l'andrea che cosa starà facendo sta dormendo per fare lo stelvio con me la mattina lo chiamagli mi dico eh Andrea eh lì assonnato eh cosa c'è ho detto Andrea sono disperato sono qua in parte alla strada cioè qua non mi carica nessuno non passa nessuno anzi chi ti guarda non mi insultavano ma diciamo che scappavano e ho rotto la ruota l'andrea è partito e in un batter d'occhio diciamo che era lì a prenderli lì avevo il morale sotto terra anche perché comunque cioè non perché in realtà non facevo lo stelvio perché alla fine cioè nella vita non sono quelli i problemi della vita però comunque non avevo fatto nulla di grave però cioè l'andrea era lì apposta per me avevo organizzato con altri amici del Grosio di fare lo stelvio con me la cosa non era possibile anche perché io boh avevo preso freddo col morale sotto terra non avevo più voglia di fare lo stelvio però anche grazie a lui siamo arrivati a Vormio col pulmino che era venuto a prendermi sulla bici mi sono fatto prestare una bici da un signore del Grosio che conoscevo e assieme abbiamo fatto lo stelvio cioè non è stato niente di eccezionale però lì davvero cioè è stato davvero l'andrea che mi ha supportato anche lì per un'altra volta e davvero il calore anche della gente che mi ha accompagnato lì sullo stelvio si fa sentire cioè alla fine apprezzo molto comunque che quello che faccio a alcuni cioè sicuramente alcuni non va bene mi insultano e tutto però nella vita non si può piacere a tutti anzi penso che se a qualcuno non piace forse è meglio così perché non è che sono arrogante o ok però sicuramente a molti gli sarebbe piaciuto non fare quello che ho fatto però alcune cose gli sarebbero piaciute alla fine diciamo che il fatto che ho anche sempre portato a termine le imprese diciamo che c'è gente che non ho vergogna a dirlo ma quando sono partito da Parigi a Bergamo non era per niente fiduciosa che riuscivo a portarla a termine infatti l'anno dopo quando ho alzato la sticella di partire da Barcellona che ho chiamato Andrea Andrea subito mi ha sempre detto sì tu riesci molta gente mi diceva ma chi te lo fa fare che comunque te Parigi l'hai portata a casa se non riesci a fare Barcellona cosa sei sei un pirla che ha fallito però nella vita per me bisogna anche rischiare cioè non solo nello sport ma anche nella vita cioè se ho fallito ho raggiunto il mio limite e basta cioè la chiudiamo lì se riesco bene cioè io l'ho sempre vista così anche perché alla fine faccio una cosa che mi piace non faccio male a nessuno e basta finché mi piace continuo a fare domanda assolutamente assolutamente un pensiero l'ultimo come hai detto tu non si può piacere a tutti l'importante è fare cose che ci divertono e quindi se a qualcuno non piace quello che facciamo basta che non che non ci segua io adesso mi collego un attimo a un commento di Giovanni Giovanni è colui che ha fatto i vari video foto e anche lì non è che ha fatto il video la foto durante l'impresa ma anche prima dell'impresa c'è da preparare la locandina c'è da preparare gli eventi il logo testa cuore gambe che anche io cioè la mattina lo guardo perché ce l'ho come cover che rispondo sul telefono dico cazzo scusate cioè è davvero il suo lavoro cioè lui l'ha fatto con il suo fratello cioè lì vedi davvero cioè che c'è il cuore quando uno fa una persona cioè testa cuore gambe è nata dal fatto che quando abbiamo creato la pagina su facebook come la chiamiamo come la chiamiamo siamo stati di un po' pensarci io e l'Andrea dopo ci abbiamo pensato che mio papà è uscita fuori testa cuore gambe però mi serviva un logo cioè davvero Antonio Ferrari che è il fratello assieme a Giovanni Ferrari hanno fatto un logo che per me cioè ha un significato e vuol dire tanto cioè io davvero quel luogo lì lo vedo come mio cioè è davvero come dice lui l'ultimo chilometro dello Stelvio cioè è stato una roba allucinante cioè c'era un casino di gente e nel loro piccolo mi ricordo come se fosse adesso ad esempio c'era anche gente che probabilmente con la bici non c'entrava così tanto perché c'era gente del Grosio mi ricordo come se fosse adesso che aveva appena tirato fuori la bici elettrica nuova di zecca con un bello zaino con dentro la batteria di riserva perché lui si era già calcolato che in 26 km col turbo una batteria non basta quindi si era fatto prestare dal ciclista la seconda batteria però lui era lì con me tutta la salita che mi parlava poi io chi mi conosce lo sa sono anche alcuni disperati perché quando vado in salita mi continuo a parlare loro mi dicono te hai il fiato non sono qua che sto annaspando stai a poter parlare questo qua con la batteria era sempre lì in parte a me che mi parlava infatti in maniera quasi dopo un po' dici ma questo qua cosa fa però capisci che lui anche se non ti conosce lì probabilmente non lo so perché vuole condividere con te quello che stai facendo infatti mi ricordo che Giovanni Ferrari e anche Andrea per le riprese gli ultimi 200 metri diciamo che era giusto non giusto però che forse arrivavo diciamo sullo Stelvio in solitaria però questo qua con la bicelefrica ha voluto proprio stare lì fino all'ultimo metro anche lui per dire che aveva assistito secondo lui ha qualcosa di eccezionale e davvero i claxon dell'ambiraglia del campo che suonavano in cima sullo Stelvio che erano le 11 e mezza la sera e anche i pasticcini dopo me li ricordo davvero adesso è un ricordo che porterò nel cuore per sempre non per raccontare cose così aria fritta però davvero lo Stelvio l'Etna Stelvio come ha come le altre perché ripeto ogni impresa è caratterizzata da un periodo per arrivare lì ci sono state varie difficoltà vari allenamenti che ho portato a termine sono anche un uomo cioè oltre comunque non avendo solo la bici hai anche altre diciamo o anche comunque altre passioni e tutto e diciamo che sono fiero di quello che ho fatto cioè probabilmente avrei potuto fare di più piegare meno ore probabilmente però avrei potuto non fare neanche questo quindi io sono felice diciamo di quello che ho fatto e devi essere assolutamente anche perché io ho visto il video di questo arrivo allo Stelvio e tu sei arrivato all'in cima allo Stelvio che pedalavi in piedi che pedalavi fortissimo sì ma diciamo che gli ultimi tre chilometri a dire il vero mi ricordo ancora una volta che siamo arrivati a Bormio Palmiro che era il mio gregario diciamo che anche lui tanto di cappello perché non si può dire nulla cioè su 1600 chilometri ne ha pedalati 1200 cioè avere comunque 63 anni diciamo che ha due palle quadre diciamo sullo Stelvio diciamo che a Bormio lui non lo so è andato in fuga probabilmente preso dall'impresa è andato in fuga ma infatti cioè io l'ho visto ho visto un razzo partire ho detto questo è unissime cioè no era Palmiro in fuga gli ultimi cinque chilometri o sei mi ricordo ancora Giovanni Ferrari che dall'ammiraglia perché l'ammiraglia era dietro a me mi fanno poi io a metà Stelvio a dire del vero mi sono fermato per fare i bisogni e poi perché comunque dal punto di vista fisico diciamo che sono sempre smestito però so che lo Stelvio in cima c'erano 5 gradi era le 11 di sera comunque ero stanco e tutto anche se lì non me ne accorgevo mi sono fermato a vestirmi a mettere un termico che va bene a 6 chilometri dalla fine 5 o 6 mi dicono che il Nello ha 3 o 4 minuti che lo potevo prendere allora io ho detto se riesco lo vado a prendere anche perché cavolo mi ha accompagnato tutti i chilometri così arriviamo in cima infatti dopo vabbè l'ho preso e infatti lui mi ha detto che era andato in fuga diciamo perché si aspettava che dopo lo recuperavano e vabbè così è stata davvero l'ha stato felice per tutto è stato è andato in fuga come motivazione perché non avresti mai potuto mollare quindi dovevi andare a prenderlo infatti che è davvero scusami è stato stupendo anche nell'Etna Stelvio chi se ne intende di nuoto diciamo che non è niente di estremamente impegnativo lo stretto di Messina cioè sono tre chilometri a quattro non facendolo come gara non è impegnativo però ci sono davvero delle correnti forti io non avevo mai nuotato non ho vergogna di dirlo in mare cioè il nuoto l'ho fatto da quando ho sei anni sette anni ma io ho smesso diciamo che mi sono sempre trovato bene a nuoto perché avevo un grande gruppo soprattutto erano anche grandi amici però dopo il nuoto è sempre stata a me piaciuta infatti non confesso che voglio ritornare a nuotare soprattutto in acque libere anche ad esempio nei laghi perché comunque il nuoto come mi ha sempre detto mio papà secondo anche me è una cosa fondamentale se un indomani non si sa mai avrò dei figli che imparare a nuotare secondo me è molto importante anche perché può salvare può salvare la vita a te soprattutto ad altre persone lo stretto di Messina però è davvero tosto per le correnti infatti basta pensare che noi da 3 km e 400 metri alla fine ho fatto 5 km e 200 metri tutti si chiedono perché perché dalla marca vedono le correnti e quindi ti fanno deviare perché se trovi una corrente che te la trovi in te diciamo pienamente frontale non vai avanti quindi ci facevano fare tutti dei zizzag per fare lo stretto di Messina infatti di solito i primi piegavano diciamo un'ora e qualcosa a farlo abbiamo piegato più di un'ora e mezza a causa che i 3 km sono diventati 5 però diciamo che mentre ero lì a nuotare te l'ho detto probabilmente io con la testa ero in Calabria ero in Sicilia quindi pensavo che il nuoto era nel senso una cosa passeggera cioè che rispetto a quello che mi aspettava in bici non era una cosa così dura ma a essere sincero cioè lì non è neanche stata così dura però io nuotavo psicologicamente non usando le gambe perché dicevo le gambe servono 1600 km le braccia servono in bici a camminare le braccia perché sono fondamentali come l'addominali perché sennò viene giù il mondo però diciamo che le braccia anche se mi fanno un po' male in qualche modo la portiamo a casa le gambe se fanno un po' male è un po' più più quindi tentavo anche lì di risparmiare qualcosa sulle gambe allora che volevo chiederti da prima io non ti ho mai visto in giro in bici d'inverno però mi dicono che vai in giro in pantaloncini anche d'inverno allora come avevo detto io non rispetto molto ma questa allora non avete cioè non pensate che sono un grande perché lo faccio cioè io lo cioè io lo faccio perché io sono così però cioè io assolutamente cioè non voglio assolutamente passare come esempio per alcune cose che faccio cioè perché come Andrea ad esempio lui segue una squadra di ragazzini dei 13, 14, 15 anni nella Brebillese cioè io ci tengo cioè io non voglio essere un'icona nel senso che la gente mi imita perché so che delle cose probabilmente che faccio le faccio in maniera senza pensare cioè so da qualsiasi su qualsiasi libro e tutti dicono che quando ci sono sotto i 15 gradi minimo 10 è meglio correre coprirsi le gambe mi segna anche tu penso nella corsa cioè a 2 gradi andare in giro in pantaloncini non è il massimo per i trout e tutto ciò che ne arriva però boh cioè io ho sempre avuto quella pazzia lì che siccome sarà una roba mia mentale ma quando ho preso 24 ore di acqua andare a Livigno con le braghe lunghe mi sembra ero congelato ho detto preferisco davvero essere in braghini che boh mi sembra quasi nella mia mente malata che l'acqua mi scivola addosso e quindi da allora ho sempre continuato ad andare in braghini mi sono fissato che li metto quando c'è sotto zero però vabbè dai una cosa che però tengo a tutti arrivo a dire è che io sono sempre stato il primo che non l'ho messo però dall'impresa Parigi Bergamo nel 2015 io ho iniziato a mettere il casco questa qua è una roba che ci tengo a sottolineare non soprattutto negli adulti ma anche nei bambini cioè se siete genitori e portate anche dei bambini in ciclado così mi raccomando cioè non lo dico perché voglio passare per il buonisto che è anche perché ve l'ho detto cioè ho fatto 22 anni senza casco e sicuramente non ho vergogna a dirlo per una maniera forse non di prepotenza o di ignoranza ma ho iniziato a mettere il casco da Parigi Bergamo non ho problemi a dirlo quando ho iniziato a fare la pagina su testa cuore gambe mi sono accorto che molta gente mi commentava il fatto che io andassi senza casco io sono sempre andato senza casco perché mi dicevo eh mi piace sentire l'aria nei capelli però cioè in maniera che comunque è una maniera davvero stupida perché comunque il casco mi salva la vita però dicevo va bene però quando ho visto molta gente davvero non è una barzelletta che c'era gente che mi diceva come faccio il mio figlio a dirgli di mettere il casco che poi vede te su Facebook che vai in giro a fare 400 km senza casco allora lì non è uno scherzo io mi sono sentito davvero un coglione perché ho detto cosa sto facendo allora da quel giorno ho iniziato a mettere il casco e diciamo che l'ho sempre messo da loro ho sempre messo il casco e alla fine come tutte le cose cioè era solo una mia pizza cioè ti abitui e probabilmente anche crescendo capisci che cioè è utilissimo cioè ti può proteggere la vita certo non al 100% però anche se al 99% rispetto allo zero sicuramente e quindi posso dirvi anche questo cioè l'unico mio consiglio che posso dare è quello basta così assolutamente perché come dicevo all'inizio personaggi come Yuri che sono molto genuini molto schietti come avete visto nell'intervista non si accorgono come dicevo prima essendo la loro umiltà nella loro comunque nella loro passione nel fare quello che gli piace non si accorgono che sono che diventano per qualcuno possono essere anche un esempio per questo che magari alcuni che a cui piacevano le tue imprese i tuoi giri o comunque che vogliono imitarti o comunque gli piace anche solo seguire hanno la passione della bici non possono fare male quello che fai te però ti prendono come esempio diventi praticamente un esempio e questo comporta anche ogni tanto queste cose come dici tu di ricevere anche questi messaggi in cui questa volta era il casco comunque è bello diventare alcun esempio però ogni tanto comporta anche alcune alcuni cambiamenti da fare in questi casi anche molto positivi no no è verissimo anche perché comunque secondo me cioè le critiche costruttive hanno anche valore cioè te l'ho detto cioè qualcosa ho fatto un bici cioè qualcosa sicuramente qualcuno fa molto di più di me cioè e probabilmente non si sa neanche perché al giorno d'oggi io penso una cosa cioè io sono sempre partito con le idee bene chiare in testa cioè va bene di sponsor va bene i fini commerciali va bene tutto ma secondo me il fine sportivo deve sempre essere la cosa primaria cioè va bene il fine commerciale per raggiungere l'impresa però io voglio un fine sportivo cioè che mi sono prefissato e purtroppo se devo se ad esempio gli sponsor a me non mi è mai successo ma mi devono mettere dei paletti troppo rigidi io non sono diciamo troppo per la negoziazione forse quello diciamo che non lo so forse ho mio male forse ho mio bene non lo so cioè io sono così secondo me il fine sportivo deve sempre prevalere dopo il resto viene per me di conseguenza anche perché penso che anche di sponsor cioè se uno ci tiene realmente capisce cos'è lo spirit cos'è che va a finanziare tutto qua sicuramente l'etica penso che resterà la cosa più importante come ci te se uno sponsor ti supporta e ti conosce poi deve diciamo un po' accettare questa è una domanda super attuale invece tutti me lo chiedono allora se devo essere sincero come tutti i professionisti che fanno i rulli ecco scordatevi io non so a dire tutti mi chiedono anche quanti chilometri fai all'anno io ve lo dico chiaramente non è per barare però io ho da dieci anni che dico sempre venti però non lo so cioè magari sono diciannove magari venticue magari venticere infatti la maggioranza di gente mi insulta dicendomi perché non carichi la roba su strava perché non carichi sul gare infatti adesso hai due giorni che stranamente carico perché mi ricordo di accettare l'orulloso però io a parte gli scherzi cioè a parte i giri lunghi cioè non mi è mai interessato sinceramente cioè quanto impiego a fare una salita quanto impiego cioè watt quella roba lì cioè non essendo un professionista cioè io sono felice così cioè sono felice così a fare i miei giri a buona diciamo che per me la quarantena non è stata proprio così forzata perché causa il lavoro che faccio che lavoro a materna e dobbiamo garantire un servizio statale ho fatto solo una settimana a casa su un mese quella settimana lì diciamo che ho davvero riposato non ho vergogna a dirlo in tre settimane in due mesi di stop ho fatto solo tre ore di rulli anche perché io i rulli non li ho me li ha prestati il moroso di mia sorella ho fatto tre ore di rulli e quattro ore penso di sping perché cioè per me lo sport è l'aria aperta cioè io faccio fatica a a consigliare lo sport col fattore di essere chiuso e questo è anche un mio grande handicap però perché ad esempio nelle imprese una roba fondamentale è lo stretching e io ne sono consapevole di ciò che lo stretching è una cosa fondamentale però io ho sempre avuto una boh una una ripulsione una negazione per la palestra cioè boh la palestra diciamo che l'ho sempre vista come non lo so qualcosa di negativo probabilmente non lo è al giorno d'oggi quasi tutta la gente ci va però boh cioè a me è così a tatto non mi ispira e infatti anche lo stretching che nonostante l'Andrea mi rinprovera ma ha pienamente ragione a rinproverarmi anche il massaggiatore e tutto cioè vado in bici ma io sono davvero legato allucinante cioè mia sorella si tocca le mani con le mani per terra io mi sa che le mani non mi scendono neanche 5 centimetri però è una mia pecca ma davvero cioè io lo sport al chiuso faccio davvero fatica a farlo sono così purtroppo non riesco a farci niente infatti in quarantena te lo le le tre settimane che sono stato a casa diciamo che sono state più con le gambe sotto il tavolo che con le gambe a farmi girare però va bene recupero ci vuole ci vuole anche quello un po' di recupero è fondamentale anche per la testa ogni tanto o te che per le gambe fondamentale Iuri io ti ringrazio un sacco perché come mi aspettavo anche se noi ci conoscevamo prima da quello che ho sentito sono contento di aver portato sul canale spero che questo video lo vedranno molti anche non ciclisti la cosa bella la cosa che spero che cercano di portare tanti sport sulla piattaforma sul canale comunque per far capire che tutti quelli che amano la fatica che sia di corsa che sia con la bici che sia con gli sci che sia nell'acqua che sia ovunque è accomunata comunque da una passione alla fine della base che come la tua non ce n'è o uno ha una passione se la sente dentro e questa cosa qua mi piace veramente portarla fuori perché magari non tutti riescono a comunicarla sempre ma perché questa cosa qua secondo me può smuovere io spero sempre che da questa intervista noi riusciamo a lasciare come si dice un piccolo seme in una persona e un ragazzo che domani magari inizi a dire però lo iuri fa migliaia di chilometri io mi compro una bici e inizio con qualche decina e chissà mai che si innamori di uno sport questa sera è stato il ciclismo che fa sempre bene nella maniera sana che tu hai trasmesso nella maniera secondo me più più importante importante possibile e quindi più genuina più umile e quindi come ripeto Mari voi non vi accorgete ma se non me siete degli insegnanti silenziosi diciamo che sono quelli che i più rari ma se non me sono quelli sono quelli più importanti quindi mi piace coinvolgervi anche se come me non siamo dei grandi comunicatori non siamo né giornalisti né sportivi né abituati a grandi relazioni però ogni tanto sforzarci più che per noi non per vantarci non è per portare noi il nostro ego ma è per far crescere Mari puntiamo a quello portare a qualcuno delle piccole e grandi storie come la tua che possano smuovere qualcosa che magari uno invece di stare attaccata alla playstation a netflix tutto il giorno inizia a pedalare a correre a sciare e chissà possono nascere imprese come la tua o comunque solo ore di divertimento con lo sport che uno sceglie infatti una cosa che ci tenevo a precisare il fatto che c'è molta gente che vedo anche ad esempio adesso diciamo con la fase 2 del copy che magari era a 20 anni che a 50 anni era a 20 anni che non tirava fuori da bici e infatti li vedi inciclabile che hanno davvero la bici di 20 anni ancora con la polvere e tutto vedi anche ragazzi gente a correre che cioè dici allucinante cioè non hanno mai corso adesso molti li criticano infatti io su questo sono sempre restato davvero stupito dal fatto che quando ho fatto lo stesso non è uno scherzo mi ricordo di gente straniera anche donne che minimo io non sono non sono un nutrizionista non me ne intendo di alimentazione ma minimo così a spanne avevano 30 kg in sovrappeso però nonostante questo facevano lo sterby magari impiegavano 6, 7, 8, 10 ore non lo so però erano lì e lo facevano mi ricordo come se fosse adesso quando sono andato a vedere il giro di Lombardia sul muro di Sormano due ragazze tedesche che davvero dicevi non era possibile che erano in bici da corsa infatti erano in bici da corsa ma hanno fatto tutto il muro di Sormano a piedi nudi perché con le tacchette non riesce a camminare io ero lì e continuavo a dire grandi e grandi e loro ridevano e la gente non capiva perché per me chiunque fa sport va motivato perché nel suo piccolo comunque sta facendo una fatica magari in mane cioè per internet io che comunque peso magari 70 kg in salita vado più forte ma sto facendo meno fatica di uno che ne pesa 150 però io sapendo che cos'è la fatica mi sento di dargli un incitamento anche supportarlo a me mi dispiace soprattutto che ci sono anche ad esempio ragazze che hanno paura a prendere la bici da corsa ne conosco alcune perché non lo so perché si sentono grassi si sentono che hanno sedere grosso allora hanno paura di mettere la tutina da bici perché è troppo aderente a me è questo che fa davvero male a pensarci dello sport cioè per me lo sport è a 360 gradi cioè non è che deve fare sport solo chi è perfetto solo c'è solo ladone cioè chiunque può nel suo piccolo fare sport cioè anche comunque andare a fare una camminata di due chilometri e impiegare mezz'ora per me è sport cioè se uno lo fa e è felice sicuramente è meglio che stare lì seduto a guardare tutto il giorno i social eccetera cioè io davvero spero quello cioè spero non in un mondo diciamo più pulito non parlo per stereotipi però davvero cioè spero anche ad esempio che nel senso il ragazzo di 20 anni o l'uomo di 60 che deve andare al bar a fare 200 metri non prenda la macchina per fare 200 metri che poi ne deve fare 600 per trovare il parcheggio ma vada a piedi o vada a bici cioè io davvero spero in questo cioè ma non è che voglio portare nel senso la gente andare in bici cioè anche può correre può camminare può fare nuoto può fare quello che vuole cioè per me però davvero fate sporche ne trovate i benefici cioè senza essere una fissazione perché al giorno d'oggi capisco anche che c'è molta gente che probabilmente è presa dalla tecnologia presa dai computerini presa da varie cose si lascia davvero un po' per me perde qualcosa cioè perde davvero che cos'è l'essenza dello sport perché lo fa e boh cioè vede vede solo dal punto di vista delle statistiche dal computerino e si lasciano per me troppo sopraffare da questo da questo da questo da questo cosa diciamo cioè per me lo sport è divertimento cioè è anche nel senso un giorno anche ad esempio io andare in bici come ad esempio oggi ho fatto 80 chilometri in compagnia ho fatto alcune salite in bici anzi ringrazio anche Valentina che mi ha accompagnato perché se no dice che non la ringrazio mai e mi ammazza invece la ringrazio in diretta ho fatto tre salite non sono arrivato a casa morto come fa tra i 400 chilometri però ho visto paesaggi che davvero mi sono piaciuti e per me è anche questo lo sport cioè non è sempre solamente una sfida contro se stesso contro i propri obiettivi ma anche boh lo vedo un po' come un ideale di vita cioè tutto qua anche un po' di condivisione sì anche condivisione con altri sicuramente diciamo che sono abbastanza un lupo solitario diciamo quando faccio l'avventura in bici però non lo confesso mi piace anche fare molti giri con gente anche che va meno di me o anche cioè nel senso gente che che non ha quasi mai preso la bici cioè la gente non capisce quello cioè è vero ho fatto 1500 chilometri e rotti 90 ore cioè ma se uno è felice nel senso che lo accompagno a Sarco magari non tutti i giorni però lo accompagno anche quella volta a Sarco cioè non è un problema cioè lui è felice così sono felice anch'io cioè tutto qua quindi con questo con questo messaggio adesso Iuri accompagnerà tutti voi in diretta a Sarnico tutti i giorni dovete no no prenotate anche perché bisogna avere il distanziamento sociale e tutto adesso quindi aspettiamo che finisca tutto sto questo casamento e poi si organizza un bel giro a Sarnico bene Iuri io ti ringrazio veramente tanto di questa sera di questa chiacchierata ringrazio tutti tutti quelli che hanno partecipato hanno fatto domande o solo che ci hanno guardato chi ci guarderà in futuro e auguro a tutti una buona serata ciao Iuri grazie ancora grazie mille ciao a tutti grazie come dico sempre a ciò come in